Ciao a tutti, io sono Margaret e ho un canale di cucina, di solito io cucino italiano, perché volevo far conoscere la cucina italiana ai miei amici, perché ci sono tante persone che non sanno cucinare, allora io non sono bravissima, però quel poco che lo so cucinare, volevo far conoscere pure loro, invece oggi sono qui per cucinare un po' l'indiano, un po' qualche ricetta indiane con voi, perché penso che a tanti di voi vi fa piacere di conoscere qualche piatto indiano, io penso, e qualcuno mi ha chiesto perché non fai anche delle ricette indiane, allora ho deciso di fare questa volta, ricetta semplicissima, spezzatino indiano, è molto semplice, gli ingredienti che ci vogliono è molto semplice, ce l'avete tutti voi in casa, quello che oggi serve per fare spezzatino indiano, allora vediamo un po' come si cucina e vediamo un po', vediamo insieme quali sono gli ingredienti che ci servono e vediamo insieme come cucina, ok allora iscrivetevi al mio canale perché io ho deciso di cucinare non solo italiano ma anche indiano, allora vediamo un po' come procedere con questa cucina, con questa ricetta, va bene? Grazie 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 E poi invece di aggiungere l'acqua ho aggiunto diciamo più o meno un 4 cucchiaio di latte di cocco e poi mescoliamo tutto insieme, non ho aggiunto sale, sale io aggiungo alla fine, giriamo molto bene per cui mischia bene tutti i gusti che abbiamo messo dentro, adesso chiudiamo e mettiamo a cuocere io perché faccio cuocere qui dentro perché diventa molto morbido nel fatto con facendo cuocere nella pentola pressione e poi la carne diventa molto buona con la latte di cocco dentro quando mettiamo insieme la carne ok adesso procediamo con la cucinare la carne aggiungo 5 cucchiai di olio di oliva ecco 5 cucchiai di olio di oliva e poi dopo quando è bel caldo la padella mettiamo prima la cipolla tagliata finemente diciamo pezzi piccoli e poi aggiungiamo il peperoncino verde e questo è sempre come come la vostra scelta se volete aggiungere sì o no o magari di più o meno quello vedete voi poi aglio e poi i pomodorini tagliati no scusate no pomodorini va aggiunto dopo facciamo diventare facciamo rosolare molto bene a fuoco media diciamo e aggiungiamo un po di sale questa facilità la nostra soffriggere anzi fa presto soffriggere così e ho aggiunto zenzero tagliato in pezzi così facciamo tutto insieme ecco poi ho aggiunto queste foglie questi sono si chiamano curry leaves è una diciamo è un'erbetta tipo vostro pranzemolo è un'erba indiana che noi aggiungiamo nel curry questo è molto da un gusto molto speciale allora è pronto la nostra soffritto adesso aggiungiamo una puntina ancora di curcuma due cucchiai di polvere di coriandolo ecco uno e due ecco facciamo facciamo girare giriamo molto bene così riesce a prendere molto bene insieme amalgamare molto bene insieme alla cipolla cinque un qualche secondo diriamo e poi dopo aggiungiamo alla fine peperoncino in polvere anche questa fase e volendo potete saltare perché ognuno di voi sapete voi se mangiate per quanto peperoncino mangiate o meno ecco facciamo girare giriamo molto bene così prende anche anche i polveri che abbiamo aggiunto deve prendere deve soffriggere un pochetto non a fuoco alto sempre fuoco bassissimo quando mettiamo peperoncino perché molto facilmente brucia adesso aggiungiamo dopo alcuni secondi aggiungiamo pomodorini anche quello giuriamo molto bene così riesce a amalgamare molto bene insieme gli altri ingredienti che abbiamo aggiunto aggiungiamo mezzo bicchiere d'acqua ecco io chiuso per 10 minuti con un coperchio dopo dopo 10 minuti e questo è pronto da questa si chiama massala massala è pronto adesso possiamo aggiungere la carne la carne che abbiamo cotto precedentemente ok prima di aggiungere la carne ho aggiunto un mezzo cucchiaio di garam masala garam masala anche quello è una specie tutto un insieme di spezie indiane che noi di solito aggiungiamo nel nostro terri ecco ora aggiungiamo la carne cotta che ho assaggiato molto buono con latte di cocco ecco adesso giriamo molto bene controlliamo se tutto a posto peperoncino sale e se volete aggiungere ancora non lo so se volete aggiungere al vostro piacimento qualche altra cosa in questo carri giuriamo molto bene adesso si aggiustiamo sale magari possiamo aggiungere perché la carne abbiamo cotto senza salare per cui forse ci vuole un po' di sale ecco adesso possiamo aggiungere due cucchiaio di latte di cocco ancora questo è l'ultimo come l'ultima fase che abbiamo nella ultima fase della della cottura aggiungiamo sale visto che il sale proprio non l'avevo messo va girato molto bene così prende molto bene il gusto che abbiamo messo dentro nella padella adesso copriamo col coperchio scusate col coperchio e dopo dieci minuti proviamo a vedere se la carne ha preso un gusto molto bene adesso il resto del dieci minuti lasciamo cuocere senza coperchio e aggiungiamo un cucchiaino di zucchero di canna questo rende molto molto gustosa questo piatto e non solo si bilancia tutti gli ingredienti che noi abbiamo aggiunto dentro adesso è quasi pronto potete servire in un piatto questo si può mangiare insieme il riso insieme alla pasta insieme a tutti quelle che voi volete accompagnare ecco col pane è molto buono anche col pane allora iscrivetevi al mio canale se vi piace il video grazie mi piace il video condividete con i vostri amici ad ogni vostra domanda scrivetemi io vi rispondo grazie mille grazie a tutti